I tirani parliamo di sport, in particolar modo di Wushu Kung Fu. Due giovani cavesi, due giovani atleti parteciperanno ai campionati il prossimo 8-11 maggio a Bucharest. Per me è un motivo di onore per quanto riguarda questo grande evento che si terrà a Bucharest per quanto riguarda i campionati europei. Devo dire che c'è un atleta che si chiama Mosca Italo, che si presenterà lì con il standato a combattimento. Lui ora è un ragazzo molto avanzato, istruttore maestro, però i primi passi li ha fatti con me, quindi posso dire un piccolo contributo 10-15 anni fa. Quindi è un ragazzo che penso possa fare i suoi anni. Per quanto riguarda Claudio, io penso che farà un grande risultato, è un ragazzo che si impegna tantissimo. So che lavora 5 ore al giorno per riuscire ad avere grandissimi risultati. Devo dire che la cosa bella è che la scuola del maestro Bruno Giordano, comunque è stata anche al grande galà che abbiamo avuto di arti marziali qui a Cava di Terreni a Santa Lucia, quindi anche Claudio si è appunto presentato con una bella esibizione. Quindi diciamo una scuola molto importante nell'ambito salernitano. Io ho pure una palestra, penso che con Claudio forse faremo un percorso, con Claudio Cozzolino, un percorso che si potrebbe anche chiudere con qualche corso in questa palestra. Quindi porteremo sicuramente a Cava anche questa grande esperienza internazionale che Claudio anche con i suoi anni sta appunto avendo e quindi anche con la scuola del maestro Bruno Giordano. Devo dire che anche io ho iniziato col Vushu, con il maestro Dario Ambra, quindi anche Bruno Giordano viene da questa scuola. Quindi sicuramente i risultati sono assicurati per chi si allena in quella palestra. Quindi abbiamo a questo punto questo percorso che andranno a fare Claudio e quindi anche Italo Musco. E sono sicuro che ci saranno grandi risultati, non soltanto ora ma anche per il futuro, perché ho visto anche altri atleti della scuola di Vushu Tempio Shaolin di Baronissi. Sono sicuro che comunque nel tempo si avranno grandi risultati. Sono anche a conoscenza che la scuola del maestro Bruno Giordano è una delle poche a livello italiano che riesce ad avere grandi risultati anche come risultati a livello europeo e quindi anche mondiale. La disciplina del Vushu Kung Fu può essere praticata da tutti i giovani o magari qualcuno non può praticarlo? Diciamo che il Vushu è una disciplina che possono praticare tutti, anche perché ci sono delle simulazioni di combattimento che si chiamano TAO, quindi simulazioni di combattimento non soltanto a mani nude ma anche con la sciabola e altre armi. Quindi tutti possono partecipare. Diciamo che nel Vushu c'è anche il lato da combattimento che sarebbe il Sanda, dove ci vuole una specializzazione unica, anche perché uno deve adattarsi a un certo tipo di combattimento, ci sono delle proiezioni particolari, quindi anche lì c'è bisogno di tanto allenamento. Però sicuramente il Vushu in generale come disciplina la possono praticare tutti quanti. Compagnia dell'atleta? Claudio Cozzolino, sono un atleta di Vushu, ho 15 anni e mi alleno nella palestra tempio osciale di Baronissi. Raccontaci come ti sei avvicinato al mondo dello sport. La mia esperienza è incominciata all'età di 4 anni, all'inizio per gioco, poi man mano è diventata una pressione che non sono più riuscito a fermare. Il risultato personale di cui vai orgoglioso e come lo hai raggiunto? Allora, diciamo che ho vinto più volte i campionati italiani e in più sono andato a fare i mondiali a 15 anni, un'esperienza che non è da tutti fare. Arrivando settimo, è stato un settimo, diciamo arrivato con la paura. Se non ci fosse stata la paura della prima gara all'estero, forse sarebbe andata meglio, però comunque non ci lamentiamo. I prossimi mondiali europei a Bucharest, le tue considerazioni? Cercheremo di trasformare la paura che nei mondiali ha fatto andare la competizione un poco male, in grinta e rabbia, che ci porterà a risultati migliori. Qual è la disciplina che pratica? Il Sanchu, detto anche Sanda, box cinese. Si ricorda un traguardo in particolar modo che ha raggiunto con orgoglio? Dato che noi diciamo che lavoriamo in diversi stili, lavoriamo anche con il Pancration, che è una disciplina, volgarmente è la disciplina dei gladiatori, cioè la lotta degli antichi gladiatori greci. Io ho combattuto a Sparta e sono arrivato a arrivare, insomma, nei primi tre. Siamo riusciti ad entrare nei primi tre. E quest'anno ci portano agli europei, insomma, rappresentando l'Italia. Insomma, cerchiamo di dare il meglio. Che consiglio si sente di dare a un ragazzo, a un giovanissimo, che magari ha voglia di approcciarsi a questo sport? Le discipline da combattimento, come tutte altre discipline sportive, ci vuole molta dedizione e, insomma, tantissimo sacrificio che si fa, insomma, dall'inizio fino alla fine. Dipende sempre uno in che risultati e dove vuole arrivare. Se uno vuole farlo per passione, per divertirsi, è un concetto. Se poi uno vuole arrivare a qualcosa come un europeo, un mondiale, c'è da lavorare tantissimo, insomma. I prossimi europei? Io, diciamo, a me, per la fascia dilettante o semiprofessionismo, come dicono, per me, diciamo, finisce qui, perché io ho 35 anni, quindi per me finisce qui e sto andando avanti con combattimenti professionistici adesso. Quindi l'Italia mi porta, insomma, a chiudere la carriera con un europeo, che per me è una cosa... Potrebbe essere, invece, un inizio, magari, nel pensare di trasmettere questa disciplina dei ragazzi? Diciamo che a Cava esercitiamo già in una palestrina creata da me, dove si chiama San Shutai, una palestra, insomma, dove esercito io a Cava. Stiamo trasmettendo qualcosa per creare qualche campioncino nostro qui di Cava, insomma. Un inizio per i ragazzi che devono, insomma, crederci. Io, fino alla fine, non lascerò mai, quindi sarò sempre in prima linea io e poi resto appresso e mi seguirà e, diciamo, adesso mi sto mettendo un po' più dietro le quinte a guardare un po' il proseguo dei ragazzi, insomma.